se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bella regà, qua è Savix che vi parla e benvenuti perché è nuovo nel canale allora ragazzi, come al solito Rockstar fa le sue cazzate ed è uscito un bug che per alcuni potrebbe essere bello, per altri no come portare la modalità Halloween nella storia quindi come vedete l'atmosfera è Halloween, facciamo un salvataggio del completo online e raga, dopodiché facciamo lo switch di Franklin per andare in storia normalmente ragazzi e come potete vedere quando saremo in storia e spada bamme regà saremo in modalità Halloween anche nella storia e questo non dovrebbe accadere ragazzi perché come ben sapete la storia è una cosa a parte sinceramente a me sta modalità mi fa altamente cagare regà ve lo devo assicurare, ve lo giuro guarda io non la sopporto ho fatto 2-3 video stamattina da portarvi e sinceramente dopo un'ora e mezza che stavo giocando avevo mal di testa e ho tuttora mal di testa ditemi cosa ne pensate nei commenti se anche a voi non vi piace o se perlomeno potevano metterla un po' più soft non così pesante a questo punto se vi è piaciuto il video lasciate un like, commentate, condividete altrove regà i miei video e supportate il canale e niente per oggi è tutto alla prossima